Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo della possibilità che offre Studio One 4 riguardo l'import e l'export del formato AAF. Un formato di scambio tra piattaforme come ad esempio Pro Tools Logic, Premiere o Final Cut verso e da altre DO. Questo per consentire un flusso molto rapido ed utile nelle fasi di lavoro durante ad esempio il sound tracking. Era una feature tra le più richieste all'interno del forum di Studio One. Vediamo come funziona. Prendiamo ad esempio una song molto complessa che stavo lavorando sul Pro Tools ed esportiamola in formato AAF. Selezioniamo il tipo di target, timecode. I file verranno esportati automaticamente a 96 kHz e 24 bit in formato WAV. Facciamo OK ed esportiamolo ad esempio sul desktop. Verrà creato ora un file AAF e i relativi file audio che fanno parte del progetto. Dovremmo poi ricaricare questo file AAF e importandolo all'interno di Studio One 4. Creiamo un folder dove inserire i file audio, chiamiamolo progetto e selezioniamo. Verranno ora al suo interno caricati tutti i file audio che fanno parte del progetto di Pro Tools. Una volta importato il file AAF all'interno di Studio One siamo pronti per salvare la nostra song, quindi sessione. Controlliamo che tutte le tracce siano state importate e posizionate nella posizione e posizionate nella loro locazione originale. Come vediamo tutti gli edit e tutti i file sono presenti all'interno della sessione. Oltre questo il file AAF importa anche la tempo track ma non include le informazioni di markers che non fanno parte di questo protocollo. Per iniziare a lavorare dobbiamo ora salvare la song in formato Studio One facendo Save As. Scegliamo ad esempio una nuova cartella, la chiameremo progetto Studio One 4, salviamo all'interno e occupiamoci di trasportare tutti i file audio che fanno parte del formato AAF all'interno della cartella del progetto. Facciamo OK e tutti i file verranno copiati all'interno di questa cartella. In questo modo potremo ora cancellare e gettare via il file AAF e i file di passaggio. Una volta terminato ora il nostro lavoro di editing potremo riesportare il formato AAF qualora avessimo necessità di riaprirlo all'interno di Pro Tools o di Premiere o di Final Cut. Il formato AAF a differenza del vecchio OMF trasporta non soltanto i file audio che fanno riferimento al progetto ma anche i nomi delle tracce e le automazioni di volume. Ovviamente non trasporta i plugin che possono essere appunto differenti da DO a DO. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Averrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a presto!